È aperta fino al 4 ottobre la mostra di artigianato e arredi delle Ande, organizzata dal gruppo Operazione Mato Grosso di DRO, dove sono esposti e posti in vendita i mobili realizzati in Peru dai giovani dell'associazione Artesanos Don Bosco. La mostra è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20, e sabato e festivi dalle 10 alle 21. L'abbiamo visitata ed abbiamo intervistato uno dei responsabili dell'associazione. Qual è lo scopo di questa mostra? Lo scopo di questa mostra è di far conoscere i lavori dei ragazzi del Peru. I ragazzi del Peru iniziano da molto giovani a imparare questo lavoro, vengono seguiti dagli adulti e dai maestri del legno. Questi giovani per 4-5 anni iniziano la loro opera, imparano la costruzione e la lavorazione e l'intaglio del legno. Raggiunta la maggior età sui 18 anni, quando praticamente hanno in mano un qualcosa o un diploma, vengono inseriti nel mondo del lavoro e lì praticamente mettono in pratica tutto quello che è stato a loro insegnato nell'ambito del lavoro. Questi mobili che si vedono qua alla mostra sono in vendita o sono solo da esposizione? Questi mobili che vediamo qua in mostra sono in esposizione e anche in vendita. Il nostro lavoro è di riuscire a vendere questi mobili per poter mandare dei soldi a loro, perché praticamente tutto il ricavato va nelle loro mani, diciamo, per continuare questa opera. Per realizzare questi prodotti che si vedono qua alla mostra, quale lavorazione viene utilizzata? La lavorazione che viene utilizzata e che vediamo in questa mostra sono dei legni particolari, dove li troviamo nella foresta amazzonica, sia in Ecuador che in Peru. I ragazzi artigianalmente eseguono tutti i lavori manualmente, con grande abilità, che richiede veramente uno sforzo non indifferente, sia nell'ambito del legno, che usano un legno molto pregiato, e anche nell'ambito, come abbiamo visto, delle maglierie o delle tappezzerie. Il legno viene, diciamo, per variati mesi tenuto in stanze per la stagionatura e poi viene lavorato proprio artigianalmente da questi ragazzi. I ragazzi sono stati seguiti anche per un periodo dai maestri, dai maestri sia locali che anche i nostri europei, anche della Val Gardena, dove si sono inseriti molto bene e dove hanno insegnato a questi giovani l'arte dell'intaglio del legno. I paesi sono poveri e automaticamente, diciamo, che tutta la loro volontà, tutto il loro impegno è dovuto proprio alla manualità di questi ragazzi. Io ho avuto la fortuna di andare a visitare questi posti con la nostra organizzazione qui dell'Alto Garda e l'Edro, con il gruppo di DRO, che ogni anno, ogni due anni, ci trasferiamo per aiutare questi giovani, per portare un po' di nostra esperienza e anche, diciamo, un po' del nostro lavoro, dedicarlo a loro. Ecco, loro ci aspettano molto volentieri perché non vedono l'ora che noi riusciamo, diciamo, a dedicare questo tempo a loro. La lavorazione di questi mobili è effettuata completamente a mano, ogni pezzo è unico, non ci sono macchinari per la lavorazione dei mobili e veramente l'abilità di questi giovani è veramente unica.